È la mia prima volta qui a Milano unica e devo dire che sono particolarmente contento di esserci perché credo che facciate davvero un lavoro straordinario in un contesto non semplice, la storia di Vogue Italia e dell'Uomo Vogue è una storia che è molto legata a quella di chi è qui presente oggi e quindi grazie in particolare di avermi invitato. La prima reazione quando mi è stato chiesto di venire a discutere qui con voi è parlare soprattutto di sostenibilità è stata di dire no grazie, credo che questa sia una reazione abbastanza comune a qualcuno sul palco e a voi del pubblico, è un tema che ci sembra talmente gigantesco e talmente complesso che in certi casi ci intimorisce, è ovvio che sono competente per il lavoro che faccio e per le mie scelte di vita però mi rendo conto che da un punto di vista delle competenze tecniche molti di voi che siete qui presenti siete più addentro alle questioni di quanto non siamo noi che raccontiamo la moda nel suo passaggio finale ma questa è stata anche la ragione per cui abbiamo alla fine deciso di esserci perché è una sfida in cui tutti noi dobbiamo cimentarci e dobbiamo essere in grado di capire come la comunicazione della moda può essere a sua volta parte di un tassello che possa veramente cambiare un po' le regole del gioco. Quindi il twist di raccontare la sostenibilità dal punto di vista della creatività è quello che secondo me rende il pomeriggio di oggi particolarmente interessante. Il primo tassello dal nostro punto di vista è ovviamente l'informazione, sembra banale lo diceva anche prima la ragazza nel video ma non lo è, vi racconto semplicemente un paio di dati di un sondaggio che le varie edizioni di Vogue hanno fatto con i loro lettori a livello internazionale, diciamo che la stessa comprensione della parola sostenibilità è spaventosamente diversa nei vari paesi in cui abbiamo le nostre edizioni è molto alta in paesi come Cina e India, è molto bassa in Russia, i paesi europei si collocano un po' in mezzo quindi qui c'è una prima missione che tutti noi dobbiamo fare ed è proprio davvero aiutare chi ci legge, chi ci segue, chi ci guarda a capire meglio le regole del gioco. E poi c'è un gap sempre significativo perché sempre in questo sondaggio il 65% delle persone intervistate che quindi sono appassionati di moda in quanto utenti delle varie piattaforme digitali di Vogue, il 65% dice di essere molto interessato al tema, quando però poi chiedi quante di queste persone fanno influenzare i propri acquisti dal fatto che un prodotto sia effettivamente sostenibile questa percentuale scende al 25%, quindi la parola d'ordine di quello che volevo dirvi ma poi insomma ne parleremo con tutti i partecipanti, per quanto mi riguarda è umiltà, credo che sia giusto dire che nessuno di noi sta facendo abbastanza, non lo sta facendo i giornali che rappresento, qualcosa stiamo facendo, anche noi a partire dalla fine dell'anno siamo la prima edizione internazionale a non usare più plastica per avvolgere i giornali, sarà una plastica completamente compostabile, Vogue Talents come molti di voi sanno già da un paio di edizioni dedica la sua sessione invernale a designer specializzati in proposte sostenibili, stiamo per lanciare un grande contest con iUX, faremo dei numeri speciali, però voglio dire che tutto questo è evidente che non è abbastanza e non lo è per una serie di paradossi che secondo me devono in qualche modo essere messi sul tavolo oggi per la discussione che ci seguirà, ve ne cito tre che poi sono più o meno sempre lo stesso, io mi chiedo come sia possibile per tutti noi trasmettere un messaggio legato alla sostenibilità quando la missione sociale di noi che facciamo i media, di chi produce le immagini, di chi produce le parole, di chi produce moda è quello di convincere gente a comprare di più, questo come dire ci si può girare attorno ma credo che sia proprio il fulcro del problema e credo che richieda grande onestà intellettuale nell'essere affrontato. Secondo paradosso, come è possibile sviluppare questo ragionamento in un momento in cui i cicli di vita della moda diventano sempre più intensi, collezioni, collaborazioni, capsule collection, drop di prodotto ogni settimana, io credo soltanto questa mattina ho fatto questo esercizio, ho ricevuto 15 comunicati stampa prima di venire qui di aziende che in qualche modo cercano di comunicare anche avendone ragione un loro lavoro in questa direzione. nel momento storico in cui la moda rende la produzione così mostruosamente insostenibile la conversazione di queste settimane di sfilate è completamente monopolizzata dal tema della sostenibilità come lo era per la diversità sei mesi fa, per il Mitunan e questo è il secondo paradosso. Credo che tutti voi ne abbiate esempi, pre-collezioni che fanno viaggiare migliaia di persone da una parte all'altra del pianeta per una sfilata che dura 12 minuti, cito solo uno e non cito il marchio ma una bellissima sfilata di un grande marchio francese a Parigi, tutto il set interno era un bosco ricostruito in cui ciascun albero aveva un QR code che permetteva di seguire i destini di quelli alberi che verranno ripiantati e fuori c'erano credo almeno 140 Mercedes, insomma credo che una riflessione di fondo sia veramente indifferibile. Terzo paradosso che metto sul piatto è generazionale, un pochino se ne parlava anche nell'intervento precedente, è vero che la generazione Z più ancora dei millennial sono particolarmente sensibili all'argomento ma è anche vero che forse è la generazione che è più sensibile anche all'acquisto di impulso e al fatto di consumare molto frequentemente e senza un reale bisogno, quindi insomma anche qui starei attento a fare una distinzione generazionale forte perché forse le situazioni sono un pochino più complesse. Come se ne esce quello che vorrei poi diciamo adesso ragionare con gli altri colleghi e amici che sono sul palco io credo che il punto cruciale sia trovare un bilanciamento tra ciò che esisteva e ciò che viene creato ex novo completamente diverso rispetto al passato. Chiudo dicendovi perché ho scelto questa foto che avete visto in loop girare alle nostre spalle e che spero torni, stavo lavorando chiudendo il numero che andrei ne dico la settimana prossima dell'Uomo Vogue, lo abbiamo completamente dedicato al lavoro perché ci sembrava insomma l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro quella cosa lì che in questo momento storico parlare di lavoro abbia un valore importante e una delle cose che facciamo è chiedere a dei foto editor degli esperti di fotografia delle immagini che insomma per qualche misura sono significative quindi abbiamo dato dei foto editor quella vecchia foto che tutti voi ricordate degli operai che fanno sui grattacieli nella costruzione credo fosse l'Empire State Building o il Chrysler Building e gli operai che fanno la pausa a pranzo con i sandwich e abbiamo chiesto a questi esperti di fotografia di darci un'immagine che rappresentasse la versione 2019-2020 di quell'immagine un grande fotografo della scuola di Francoforte che si chiama Andrea Gursky ci ha mandato questa foto che io trovo incredibile è uno dei magazzini di Amazon a Phoenix Arizona e mi colpisce per due cose e con questo veramente chiudo la prima è che tutti noi sappiamo cosa c'è dietro a questa immagine in termini di contributo di forza lavoro di supply chain dell'algoritmo leggevo oggi libri che predicano su come liberarsi dell'algoritmo tutti noi lo sappiamo e tutti noi siamo vittima di questa cosa e questo a me fa venire delle domande seconda cosa vediamo se che cosa manca in questa immagine che è veramente una specie di biblioteca universale non c'è neanche un uomo è completamente privo di esseri umani anche questo insomma mi piacerebbe ragionare con con chi è come sul palco oggi perché l'importanza del fattore umano nell'evoluzione della moda penso che sarà sempre più cruciale quindi diciamo con questo passo subito la parola a Claudio Derpizio che credo che ci presenterà uno studio non necessariamente mi dicevi incentrato sulla sostenibilità ma su questa grande trasformazione che sta attraversando il nostro settore di cui ovviamente la sostenibilità è un tassello molto importante grazie